I finanziari del nucleo di polizia tributaria di Trapani hanno sequestrato beni per oltre 2,3 milioni di euro ad un imprenditore di custonaci già in carcere dall'anno scorso per usura. L'uomo ha approfittato delle difficoltà economiche dei titolari di alcuni marmorifici del trapanese, prestandogli denaro ad un tasso del 120%. Le indagini hanno oppurato che il patrimonio della famiglia era frutto dell'attività usuraia. Ad essere sequestrati un intero complesso aziendale a custonaci, comprendente un noto ristorante, un bar, una sala da balle e una sala ricevimenti, 17 appezzamenti di terreno, 5 abitazioni, 3 villette, 5 negozi e 2 autovetture. Ieri la sentenza definitiva del processo corrito è abbreviato all'usuraio, condannato a 9 anni e 4 mesi di reclusione. L'enorme patrimonio sequestrato è stato definitivamente confiscato.